Ciao a tutti e bentornati a Pillore di Storia. Bentornati alla nostra miniserie dedicata all'espansionismo coloniale italiano, l'espansionismo coloniale del Regno d'Italia. Abbiamo nella scorsa puntata raccontato come le prime colonie nacquero, la colonia in Eritrea, la colonia in Somalia, di come furono a tutti gli effetti un po' frutto del caso, un po' frutto dell'appoggio da parte inglese, ma soprattutto frutto di un lavoro diplomatico e commerciale per trovare un accordo con le popolazioni locali. Man mano che però la colonia andò ad espandersi, questi rapporti commerciali e rapporti diplomatici iniziarono a lasciare il posto a dei rapporti militari, che ovviamente misero in mezzo l'esercito italiano, che non era assolutamente attrezzato per delle campagne in Africa e resero l'espansione decisamente più complicata. Eppure le nostre prime colonie nacquero proprio in quel periodo, ripeto, non da semplici accordi, ma da una serie di scontri e di guerra. E proprio di questo parleremo oggi, concentrandoci nella puntata di oggi e nella prossima sull'Eritrea, parlando dell'espansione, delle vittorie, ma ovviamente anche delle numerose sconfitte. Quindi, se non volete perdervi le prossime puntate e non lo siete già, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per essere aggiornati ogni volta che esce un nuovo video, sigla e ripartiamo dal 1885 dalla conquista di Massawa. Come abbiamo visto nella scorsa puntata, sino a quando l'Italia aveva limitato i suoi possedimenti alla Baia di Assabe e poco oltre, tutto questo non era quasi neanche considerato una vera e propria colonia. Quando però, all'inizio del 1885, occupò Massawa, le cose cambiarono. Non era più una questione di qualche villaggio, qualche Baia, qualche approdo navale. No, questa volta si trattava di una città con un porto, una città molto importante per i commerci nella zona, tanto che il governo riuscì a far passare all'opinione pubblica l'occupazione di Massawa come una mossa molto importante dal punto di vista economico, dicendo che da Massawa passavano le merci che provenivano sia dall'Etiopia che dal Sudan. Perché avevamo conquistato Massawa? Sempre come abbiamo raccontato nella scorsa puntata, era stata anche qua la mediazione inglese che aveva spinto l'Italia ad occupare, anzi, secondo alcune versioni addirittura su proprio l'Inghilterra a contattare l'Italia e a proporle di occupare la città. Questo perché all'inizio del 1884 le truppe inglesi erano state cacciate dal Sudan nella rivolta del Madi, rivolta del Madi che si era poi estesa e aveva iniziato a puntare lungo la costa, laddove c'erano delle città portuali che erano nelle mani egiziane, che si temeva in qualche modo che gli egiziani non potessero in nessun modo mantenere. Quindi il rischio era che caduta Massawa o il Madi la utilizzasse ovviamente rendendola una sua città fortificata e guadagnandola ovviamente dei vantaggi dal punto di vista commerciale, o che peggio ancora la città potesse cadere nelle mani di qualche potenza coloniale diversa dall'Inghilterra, a cominciare magari dalla Francia. Per questo l'Inghilterra aveva convinto l'Italia a quella spedizione, una spedizione che per la prima volta non sarebbe stata una semplice spedizione commerciale e diplomatica, ma sarebbe stata una vera e propria occupazione militare. La spedizione fu organizzata un po' in fretta e furia e i risultati si videro. Pensate che le truppe che erano partite dall'Italia in pieno inverno arrivarono a Massawa ancora con le divise invernali e potete immaginare col caldo di quella zona dell'Africa che cosa volesse dire. Quando sbarcarono ci si rese conto che le artiglierie, che avrebbero dovuto essere un po' la protezione delle truppe sbarcate, erano impacchettate sul fondo delle navi, coperte da tonnellate di materiale e quindi non fu possibile utilizzarle fino a qualche giorno dopo lo sbarco. In realtà come abbiamo raccontato le cose andarono in maniera abbastanza liscia, le forze egiziane d'accordo con quelli inglesi si ritirarono dalla città e la lasciarono nelle mani degli italiani. Nei mesi successivi gli italiani si occuparono innanzitutto di fortificare quella striscia di terra che andava proprio da Sab a Massawa, rendendo quella striscia lungo il Mar Rosso la prima vera e propria colonia italiana. Dopodiché però si iniziò a parlare a Roma di cosa fare di quella colonia. Ora che si era occupato un porto così importante, ora che c'erano delle truppe in loco, si poteva pensare anche di espanderla, non più solo dal punto di vista diplomatico ma anche dal punto di vista militare. La prima idea che venne all'allora ministro degli esteri Mancini, ministro degli esteri del governo De Pretis, fu quella di pensare ad un'espansione verso nord, verso il Sudan. L'idea era questa, abbiamo un accordo con l'Inghilterra, l'Inghilterra vorrebbe riconquistare il Sudan ma non ne ha in questo momento le forze, perché non unirci a lei in questa campagna? Perché non mandare delle truppe insieme agli inglesi riconquistare il Sudan e magari spartirsi questa colonia? L'idea in realtà agli inglesi non piaceva per due motivi. Uno perché a differenza degli italiani si rendevano conto che la conquista del Sudan non sarebbe stata un qualcosa di facile da organizzare con poche truppe ma c'era il rischio di subire un'altra sconfitta. Secondariamente perché l'occupazione di Massawa dagli italiani poteva andare bene agli inglesi ma il Sudan contavano di riportarlo nel loro impero coloniale e quindi quest'idea venne istantaneamente bloccata. Poi il ministro Mancini cadde, sarà sostituito da Carlo Felice di Rovilan e le cose andarono completamente in un'altra direzione. Abbandonata l'idea del Sudan, gli italiani decisero di iniziare a guardare verso i loro vicini a occidente, a sud ovest, cioè all'altopiano etiope. L'altopiano etiope all'epoca era nelle mani di un'entità tra le più antiche dal punto di vista statale dell'intera Africa, cioè il cosiddetto impero d'Etiopia. Ora l'Italia con l'impero d'Etiopia aveva già iniziato ad intessere alcuni rapporti, rapporti che erano stati creati addirittura prima ancora che l'Italia Unita nascesse da una serie di missioni religiose o semplicemente esplorative che avevano letteralmente battuto il territorio etiope andando a creare tutta una serie di contatti. All'epoca le cose funzionavano così, non pensate ad oggi in cui se un capo di Stato vuole scrivere un altro capo di Stato o alza il telefono o al limite manda una lettera, no, all'epoca bisognava fisicamente creare delle stazioni che permettessero il passaggio di informazioni, degli intermediari che permettessero di parlare, di discutere tra vari vari stati. E con la zona dell'Etiopia questo era avvenuto. Era avvenuto inizialmente per motivi religiosi, con una serie di missioni che avevano battuto proprio queste zone e avevano creato i primi contatti tra i vari missionari, ne cito forse anche perché originario dell'Astigiano di Piova Massaia, il futuro Cardinal Massaia, che a metà del XIX secolo aveva passato quasi 30 anni in Etiopia presso le tribù Galla e aveva ovviamente creato tutta una serie di contatti. Contatti che una volta tornati in Italia ovviamente non vennero sfruttati solo per motivi religiosi, ma che vennero sfruttati anche per motivi politici. Un famoso esploratore laico invece fu Orazio Antinori, che era uno dei più importanti esploratori italiani dell'epoca, si era spinto molte volte in questa zona dell'Africa, aveva visitato il sud, aveva andato verso i laghi dell'Africa centrale e aveva appunto attraversato più volte l'Etiopia. Fu pensate uno dei fondatori dell'Istituto Geografico Italiano, di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata, che tra l'altro gli finanziò ovviamente tramite lo Stato molte di queste spedizioni. Nel 1876, chiedo scusa, sarà proprio lui a condurre una grande spedizione attraverso l'Etiopia, che lo metterà in contatto con molti dei capi dell'Etiopia centrale, addirittura ottenendo il permesso di costruire una stazione di passaggio per l'Istituto Geografico Italiano, Alet Marefia, che vi metto qua dove si trova sulla vappa, come vedete abbastanza nella zona centrale dell'Etiopia, che divenne per molti anni, quasi fino alla fine del secolo, quando poi le relazioni tra l'Etiopia e l'Italia andarono peggiorando, divenne un punto di passaggio, di commercio, ma anche di contatto molto importante proprio tra gli italiani e gli etiopi. Che cosa raccontarono questi esploratori dell'Etiopia? Beh, raccontarono che l'Etiopia formalmente aveva un imperatore, cosiddetto Negus Negesti, un imperatore che addirittura si faceva discendere, faceva discendere la sua dinastia da Re Salomone, o meglio da Meneric, che era il figlio, secondo le leggende, di Re Salomone e della regina di Saba. Una dinastia, ovviamente, ripeto, che diceva di essere antichissima, che all'epoca aveva come esponente Giovanni IV, che però in realtà non controllava direttamente tutta l'Etiopia, perché alcune zone dell'Etiopia erano quasi del tutto autonome ed erano sottoposte al controllo di Negus, di Re, tra cui sicuramente il più famoso e il più importante era il Negus Menelik, che governava il territorio della Shoah, nella zona proprio centrale dell'Etiopia. Il resto, pur essendo sotto controllo di Giovanni IV, era però diviso a dei capi locali, che si facevano chiamare ras, che avevano ovviamente al loro comando molte truppe, l'esercito dell'imperatore l'ha fatto anche unendo le truppe di tutti questi ras a lui fedeli, e che controllavano proprio alcune zone dell'Etiopia. Quando gli italiani iniziarono la loro lenta espansione verso l'altopiano etiope, entrarono subito in contatto con uno di questi ras, fedele proprio a Giovanni IV, che si chiamava il ras Alula. La prima espansione non fu molto organizzata, non vennero mandate molte truppe, non vennero mandati molti rifornimenti, ma fu un progressivo avanzamento molto lento attraverso l'altipiano, costruendo delle piccoli fortini per il controllo del territorio o occupando dei villaggi. Perché ci fu questo avanzamento così lento? Beh, un po' perché all'epoca l'Italia non voleva investire molto in queste colonie. Si pensava che era difficile convincere sia l'opinione pubblica che molti degli esponenti politici dell'importanza di questa espansione, l'abbiamo parlato meno della scorsa puntata. Secondariamente perché la visione del ministro degli esteri dell'epoca, De Robilan, era quella che l'espansione verso l'Etiopia sarebbe stata facilissima, perché quei popoli non erano dotati di armi moderne, non erano organizzati, insomma sarebbe stato semplice come far entrare una lama calda dentro il burro. Lui stesso disse, quando venne interrogato a livello parlamentare, di non preoccuparsi che le truppe contro cui gli italiani si sarebbero dovuti scontrare erano delle semplici truppe di straccioni. Le cose però non andarono esattamente così e lo si vide fin dall'inizio. Il 14 gennaio 1887 una colonna italiana raggiunse il villaggio di Sati e qui si fortificò creando un piccolo fortino. Quella colonna italiana era composta da circa un 700 uomini, di cui 3-400 erano soldati italiani e gli altri erano dei basci buzuc. Chi erano i basci buzuc? Beh i basci buzuc, o letteralmente teste calde, erano delle forze mercenarie che erano nate all'epoca dell'impero ottomano. Erano composte da uomini provenienti da varie zone dell'impero, pensate che le truppe che erano a disposizione degli italiani erano comandate da un uomo di origine albanese, tanto per farvi un'idea, ed erano state dislocate in varie zone dell'impero sia con compiti di essere dei soldati, ma anche con compiti di polizia. Gli egiziani ovviamente avevano ereditato questo esercito e avevano continuato ad utilizzarlo, sparsi in varie zone. Quando gli italiani erano arrivati a Massawa, gli egiziani si erano ritirati ma i basci buzuc erano rimasti e gli italiani avevano deciso di assoldarli proprio come forze locali. Questo corpo non durerà molto perché sarà progressivamente sostituito da un corpo locale composto da eritrei, i cosiddetti Ascari, degli Ascari ne parleremo meglio nella prossima puntata. Ma ripeto, erano un corpo locale di eritrei arruolati nell'esercito italiano. Ma ripeto, ne parleremo meglio invece nella prossima puntata. Ad ogni modo, questo piccolo contingente italiano, giunto il 14 gennaio 1887 a Sati, si vide improvvisamente venire incontro un esercito di ben 20.000 uomini, quindi nettamente superiore dal punto di vista numerico, comandato da Russell a Lula, che il 24 gennaio raggiunse la città, la mise sotto assedio e il giorno successivo decise di prenderla d'assalto, dovendosi però ritirare dopo aver subito perlite pesantissime senza essere riuscito ad infrangere le mura del fortino. A questo punto però a Lula venne a sapere che gli italiani avevano mandato una colonna di supporto alle posizioni di Sati, che aveva lasciato Massawa e si stava dirigendo proprio verso la cittadina. Rendendosi conto di non poter assaltare una fortezza così ben difesa, decise di attaccare proprio questi uomini. Li hanno incontro e intercettò le forze del tenente colonnello De Cristoforis, che erano 500-550 italiani, nella zona di Dogali. Quando gli italiani si videro venire incontro, i 15.000 uomini di rasse a Lula decisero di fortificarsi. Salirono su una collinetta, utilizzando le mitragliatrici, la poca artiglieria che avevano a disposizione per cercare di respingere gli etiopi, che però iniziarono ad attaccarle letteralmente ad ondate. La prima ondata venne respinta, la seconda, la terza, la quarta... Ad un certo punto finirono letteralmente le munizioni. Gli etiopi sfondarono e uccisero quasi 450-430 italiani, prendendone poi prigionieri quasi tutti gli altri. La battaglia di Dogali fu un disastro, un disastro completo, che innanzitutto ebbe effetti locali, perché le forze di Sati decisero a quel punto di ritirarsi e, sfruttando anche i festeggiamenti degli etiopi, riuscirono a farlo senza essere attaccati. Ma ebbe effetti soprattutto a Roma. Innanzitutto, il di Robilan fu costretto alle dimissioni, perché tutti si ricordavano delle sue parole sugli etiopi straccioni e i risultati erano stati quelli che erano stati. Fece inoltre un grosso effetto a livello di opinione pubblica, vennero intitolate strade, vie. A Termini, a Roma, a Roma, davanti alla sezione Termini, c'è un grosso piazzale che si chiama il Piazzale dei 500. Quei 500 sono proprio i morti di Dogali, i soldati di Dogali, a cui è intitolato quel piazzale. Un tempo c'era al centro un obelisco che poi è stato spostato, un monumento che poi è stato spostato, ma insomma era intitolato proprio a loro. Grosso effetto però lo fece proprio sul cambio dei progetti coloniali da parte dell'Italia, che misero da parte l'espansione lenta e decisero di organizzare una netta risposta militare, tanto che la gestione delle colonie passò dal governo, dal ministero degli esteri, al ministero della guerra. Ancora una volta però gli italiani dimostrano tutta la loro incapacità organizzativa in questioni coloniali. Se avessero scelto di perseguire una via diplomatica, ovviamente la cosa peggiore da fare sarebbe stato inviare delle truppe. Se avessero deciso per una via militare, sarebbe stato necessario inviare un grosso contingente per poter sconfiggere gli etiopi e magari conquistare forzatamente tutto l'altopiano. Gli italiani scelsero una via di mezzo, scelsero di inviare 20.000 uomini al comando del generale Asinari di San Marzano che sbarcarono a Massawa a metà del 1887 e aspettarono. Aspettarono perché nel mentre gli inglesi, che continuavano a farci un po' da baglia in queste cose, avevano cercato di trovare un accomodamento tra Giovanni IV e gli italiani. Ma da una parte gli italiani volevano espandersi, dall'altra Giovanni che aveva appena vinto uno scontro sicuramente non voleva accedere a quei territori senza combattere e così alla fine non si giunse a nulla. Asinari di San Marzano all'inizio del 1888 decise quindi di avanzare, fece avanzare le sue truppe di nuovo fino a Sati e qui si fermò. Giovanni IV mise sotto assegno la città, si rese di fortino, si rese conto che non poteva fare molto di più e alla fine si ritirò lasciando una situazione praticamente invariata con gli italiani che avevano troppe poche truppe per proseguire ma troppe truppe per potersi ritirare. Ad aiutare l'Italia a sorpresa però non fu tanto il suo esercito quanto l'esercito del Sudan. Se l'Italia in quel momento era formalmente nemica sia del Sudan che dell'Etiopia non si può dire che neanche gli altri due stati si amassero particolarmente. Anzi le forze del Madi avevano più volte sconfinato nei territori etiopi, ne avevano occupato, razziato villaggi, si erano spinti addirittura verso alcune delle città più importanti del nord dell'Etiopia cercando di occuparle ed erano ogni volta stati respinti con molta difficoltà. Si scontravano per motivazioni storiche, erano popolazioni che da sempre erano in lotta l'uno contro l'altro, anche per motivazioni religiose. Da una parte c'era il credo cristiano degli Etiopi, dall'altra c'era l'Islam che invece era seguito nel Sudan. All'inizio del 1889, nel marzo del 1889, Giovanni IV decise di punire questi sconfinamenti, raccolse le sue truppe e marciò verso Gallabat, una città che era stata proprio fortificata dai sudanesi. L'assedio di Gallabat però non andò bene per le forze etiopi, un po' per una disparità dal punto di vista tecnologico perché le truppe del Madi, Madi che peraltro era morto e era già stato sostituito ma rimanevano legate dal punto di vista religioso, le truppe del Madi, avendo acquisito molte delle armi che erano riuscite a sottrarre gli inglesi, erano meglio armati rispetto agli Etiopi. Ma in generale lo scontro non andò così bene. Gli Etiopi provarono più volte a sfondare nelle posizioni sudanesi a Gallabat, alla fine lo stesso Giovanni IV fu ferito e morì, sostanzialmente rompendo il fronte Etiope e costringendo tutti gli altri Ras a ritirarsi. Alla morte di Giovanni IV, questi, in maniera assolutamente pubblica, annunciò che il suo successore sarebbe dovuto essere Ras Manga Shah, che era un figlio naturale, quindi un figlio illegittimo, riconosciuto, dell'imperatore. Ras Manga Shah era uno dei Ras più importanti dell'Etiopia, ma questo passaggio di potere ovviamente non venne accettato da tutti, non venne accettato soprattutto dal Negus dello Shoah, quel Menelik che già da tempo rivendicava il trono dell'Etiopia. Quando si seppe che l'esercito di Giovanni si era sciolto, che i Ras erano tornati ognuno alla propria destinazione, Menelik decise di insorgere, si autonominò imperatore d'Etiopia, prese il nome, peraltro proprio in quell'occasione, di Menelik, Menelik II, proprio per ricollegarsi all'origine della dinastia, e scatenò una vera e propria guerra civile in Etiopia, spingendo i vari Ras a legarsi qualcuno a lui e qualcuno a Manga Shah. Gli italiani, in cui in quel momento il generale Asinari di San Marzano era tornato in Italia ed era stato sostituito dal suo luogotenente Antonio Baldissera, gli italiani approfittarono della situazione. Prima per espandere la colonia, occupando Asmara e Keren, e poi iniziando a cercare di intrattenere dei rapporti con una parte e con l'altra. Qualcuno inizialmente propose di appoggiare proprio Manga Shah, che delle due parti sembrava essere quella più debole e probabilmente quella che si sarebbe legata più facilmente alle posizioni italiane, ma alla fine a vincere, anche contro il parere dello stesso Baldissera, fu proprio l'idea di legarsi a Menelicche, che a metà del 1889 firmò il cosiddetto Trattato di Uccialli. Il 2 maggio 1889 il Trattato di Uccialli divenne uno dei punti cardine della nostra politica coloniale. Sulla carta ovviamente c'era un duplice riconoscimento. Da una parte l'Italia riconosceva Menelicche secondo come unico imperatore d'Etiopia e si proponeva di supportarlo dal punto di vista diplomatico anche spingendo alcuni rassi etiopi che si erano legati all'Italia a supportarlo. Dall'altra parte Menelicche riconosceva l'occupazione dell'Eritrea da parte italiana, riconoscendo che quei territori, compresi Asmara, Keren e quant'altro, facevano parte della sfera di influenza italiana e non erano più etiopi. Il Trattato di Uccialli però creò anche un pessimo rapporto tra i due Stati a causa di uno dei suoi articoli, il famigerato articolo 17. Il Trattato era stato scritto in due lingue ovviamente, in italiano e in amarico, lingua della zona, lingua dell'Etiopia, che però nell'articolo 17 avevano visto le stesse frasi tradotte in due modi diversi. Qualcuno dice volutamente, perché in questo modo entrambe le parti pensavano di aver fregato l'opposta, qualcuno dice per un semplice errore di traduzione, fatto sta che nella versione italiana l'articolo 17 prevedeva che l'Etiopia si sarebbe dovuta servire dell'Italia per qualunque rapporto politico con altre nazioni, sostanzialmente trasformando l'Etiopia in un protettorato che poteva gestire la sua politica interna ma che doveva poi rifarsi agli italiani per qualunque relazione estera. Nella versione invece in Asmara, quella per gli etiopi, lo stesso articolo era scritto dicendo che gli etiopi avrebbero potuto utilizzare l'Italia come aiuto per i loro rapporti esteri, in questo caso ovviamente non con un vero e proprio protettorato ma semplicemente con un appoggio da parte italiana. L'errore di traduzione sarà in realtà compreso praticamente subito perché appena un anno più tardi l'Etiopia cercherà di stipulare accordi con la Francia e con la Russia e il risultato fu che le relazioni peggiorarono istantaneamente ma ormai Menelik era riuscito a prendere il trono, aveva sottomesso Ras Mangasha che peraltro era rimasto Ras nella sua zona e a quel punto non aveva più bisogno dell'appoggio italiano. Negli anni successivi però i due stati non vennero più direttamente allo scontro. Gli italiani si scontrarono ancora con qualche forza irregolare di Etiopi, tra la volta purtroppo perdendo anche come nella battaglia di Saganeti in cui 700 Ascari comandati però da ufficiali italiani saranno sorpresi e uccisi da una colonna di Etiopi irregolari. Un'altra battaglia, un'altra sconfitta che ovviamente fece un grosso rumore in Italia anche se la maggior parte delle truppe morte erano ovviamente Ascari quindi eritrei. In realtà però il confine rimase sufficientemente stabile anche quando Baldissero venne sostituito da un altro comandante Oreste Baratieri decisamente più offensivo e meno portato alla diplomazia. In realtà l'Italia negli anni successivi si concentrò principalmente verso il Sudan. Nel 1891 i sudanesi avevano infatti intrapreso una serie di campagne offensive verso le posizioni italiane venendo però sempre respinti e nel 1893 erano stati invece gli italiani ad iniziare una campagna verso il Sudan. Questa volta le truppe si erano ben comportate. Avevano affrontato le forze sudanesi nella battaglia di Agordat in cui nonostante la disparità numerica ovviamente a favore delle truppe del Madi a vincere erano stati gli italiani. Si racconta che a permettere la vittoria della battaglia fosse stata la decisione italiana di disporsi non a quadrato come si faceva all'epoca sotto delle forze di forze di cavalleria irregolari ma di disporsi con una lunga linea di fucilieri un po' come si faceva all'epoca delle guerre napoleoniche che sorprese le forze del Madi che erano abituate a combattere contro i quadrati inglesi e le respinse con grandi perdite. Dopo la vittoria di Agordat e l'anno successivo nel 1894 occupamo anche la cittadina di Cassala che divenne un nodo importantissimo proprio per la gestione del nord. Questa espansione però non andò molto oltre. L'Italia tornerà ben presto a guardare verso l'Etiopia. I rapporti andranno sempre di più peggiorando e ad un certo punto forti delle nuove posizioni gli italiani decisero di riprendere la loro espansione. L'imperatore Menelic II però era pronto ad accogliergli e come racconteremo nella prossima puntata l'espansione italiana seppur formalmente meglio organizzata rispetto a questi primi tentativi subirà una terribile sconfitta nella battaglia di Adua. Ma di questo e degli effetti di quella battaglia ne parleremo ovviamente nella prossima puntata. Io mi fermo qua spero di non avervi dato troppi nomi ma è bello anche raccontare un po' di tutte queste situazioni anche perché molti di questi nomi se voi andate a vedere nei centri storici delle città italiane li ritrovate nei nomi delle vie. Io penso solo a Torino, abbiamo Piazza Baldissero tanto per dirne una, sono personalità che uno magari non sa neanche chi siano ma in un'epoca in cui le nostre città si stavano espandendo davano molto spesso i nomi di questi comandanti o legati a queste battaglie. Quindi è anche un modo per andarsi ad incuriosire. Se in questa calda estate volete girare un po' per la città a cercare questi nomi legati al colonialismo ripeto ne troverete parecchi. Io mi fermo qua ci vediamo tra una settimana per andare avanti con la nostra storia andare avanti con la storia delle guerre in Eritrea. Se volete potete riascoltare queste le altre puntate della miniserie qui in descrizione trovate ovviamente la playlist potete riascoltare sul nostro podcast anche quello lo trovate in descrizione. Per il resto come sempre io vi ricordo di essere curiosi perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche storie incredibili che nessuno scrittore nessun regista avrà mai la fantasia di mettere nelle loro opere e se volete curiosare tra qualcuna di queste storie qui a fianco ce ne elenco delle pidole uscite. Fino adesso noi ci vediamo presto con nuove pidole di storia. A presto ciao ciao